Ciao colleghi e ciao colleghe, in questo video di approfondimento vorrei parlarvi un po' più nel dettaglio di come funziona Google ricerca immagini. Nella nostra video lezione dell'altro giorno abbiamo parlato di ricerca non solo di immagini ma per immagini. Allora vediamo come funziona, già saprete che Google ha una sottosezione dedicata alle immagini che è questa qui, la trovate qui ma anche quando fate una ricerca semplice potete sempre abbinare quella ricerca alle immagini. Faccio un esempio banale, se io cerco qualcosa anche magari per facilitarci in questa spiegazione di legato alle immagini tipo Magritte, il pittore belga, allora noi non solo abbiamo diciamo le informazioni testuali, quindi abbiamo la voce di Wikipedia, abbiamo anche una sezione di video, possiamo anche fare una ricerca per immagini e molto probabilmente appunto ci viene proposto un assortimento dei dipinti di Magritte, probabilmente da qualche parte ci sarà anche qualche foto, ecco qui, del pittore stesso. Ci sono anche locandine probabilmente di mostre, comunque guardate che l'assortimento non manca, foto, manca di musei, di esposizioni, eccetera. Però c'è anche una ottima funzione di Google Immagini, se io vado al sito images.google.com, eccolo qui, era già, allora Google Immagini, io posso andare anche a fare una ricerca per immagini, con, sì, per immagini, allora facciamo un esempio, a me serve spiegare i gallicismi ai miei ragazzi in francesi. Una prima funzione è trovare, ad esempio, trovo che questa immagine sia l'ideale per spiegare i gallicismi, quindi clicco qui, faccio salva immagine con nome, la vado a salvare in documenti, passé, présent, futur, però magari quando vado ad aprirla, magari mi rendo conto che è troppo piccola. Io posso fare una ricerca per immagini inserendo questa stessa immagine e dicendo Google, per caso hai delle immagini con una risoluzione più alta, delle immagini, questa stessa immagine, però più grande, che cosa faccio? Vado in documenti dove ho salvato il file. Allora, vediamo un po', eccola qui l'immagine. Allora, se io vado su Images, nella configurazione di base, io trascinando l'immagine direttamente nel browser, qui in questo spazio, farò una ricerca sulla base di quella immagine. Vi faccio un esempio. Allora, clicco sull'immagine, tengo premuto il mouse, il cursore, trascino l'immagine sulla icona del browser aperto, guardate, mi esce questa, io ho ancora il pulsante sinistro del mouse premuto. Ricerca tramite immagine, rilascia l'immagine qui. Io lascio l'immagine trascinata in questo spazio. Il file sta caricando perché l'immagine dal computer deve andare a finire in Google. Allora, guardate, possibile ricerca correlata. Ha identificato l'immagine come qualcosa di correlato alla grammatica francese, passerais sans, futur proche, che sono proprio dei gallicismi. Allora, anziché andare a fermarmi qui, io vado a vedere tutte le dimensioni. Allora, come vedete, ci sono vari tipi di file. Io posso andare a fare anche con strumenti, guardate, dimensioni. Posso dire, ad esempio, qualsiasi dimensione, questo qui. Posso andare a dire, mi fai vedere quelle più grandi? Ovviamente è uno standard relativo perché in matematica non esiste un numero grande e un numero piccolo. Grande è per uno standard di Google che adesso io ignoro. Non mi dà risposte grandi, ma posso andare a vedere le medie all'ora. Ecco, abbiamo già ridotto. Allora, guardate, questa immagine è già più grande di quella che io possedevo e quindi posso andarla a salvare, sempre in documenti, così facciamo anche il prima. Allora, adesso posso andare a fare un paragone tra le due immagini. Allora, questa è decisamente più grande di questa e quindi posso utilizzare questa immagine. Oppure, la ricerca immagini di Google mi può servire anche a qualcos'altro. Ad esempio, mi può servire per capire che cosa sia un'immagine. Allora, ho fatto questo esempio. Ho preso questo dipinto, mi sono imbattuto in questo dipinto, ma non ho un riferimento. Né come si chiami il dipinto, né chi l'abbia dipinto. Come faccio a risalire dal dipinto a queste informazioni? Se io dovessi descrivere questo dipinto con delle parole, magari forse ci riuscirei, ma in questo caso è molto banale perché si tratta di una donna che, non lo so, è intenta la sua toeletta. Se io scrivessi dipinto di donne intenta la sua toeletta, chissà quante immagini mi uscirebbero e sicuramente sarà difficile trovare queste immagini. Se fosse stato un dipinto di diverso tipo, non lo so, gli orologi molli di Dalì, allora, orologi che si sciolgono sicuramente, dipinto orologi che si sciolgono, con queste parole chiavi sicuramente il dipinto che cerco sarebbe uscito fra i primi risultati. Ma qui abbiamo un dipinto che non possiamo descrivere efficacemente con una stringa di testo. Allora andiamo a fare direttamente la ricerca di questo dipinto che io ho qui sul desktop in Google Immagini che abbiamo qui. Quindi come prima, clicco sull'immagine, la vado a trascinare in Google Chrome, la vado a mettere nella barra di ricerca di Google Immagini ed ecco qui, possibile ricerca correlata che però noi dobbiamo andare a confermare. Bert Morisot, guardate. Ecco, immagini visivamente simili. Non solo mi dà le immagini proprio del dipinto in questione, ma poi mi dà altre immagini dipinte nello stesso stile, con le stesse tonalità di colore. È un dipinto sicuramente impressionista, ma andiamo a vedere se si tratta in effetti di Bert Morisot. Io vado a cliccare sul primo, ecco, Bert Morisot, la vasca da bagno. Io non ho cliccato proprio sul sito, quindi non ho aperto il sito, però già Google dice che è un dipinto della pittrice Bert Morisot e si intitola La vasca da bagno. Ecco uno dei possibili impieghi di questa funzione. Spero di essere stato esauriente e chiaro. Nel caso mi potete contattare per ulteriori...